La novità che abbiamo introdotto ormai appunto da più di un anno e mezzo è che le cose si fanno e le risorse che sono poi risorse dei cittadini italiani e dei cittadini di Napoli e della Campania sono utilizzate per risanare realmente Bagnoli. Questa è la novità, questa novità è in campo ormai da quando abbiamo avviato questo lavoro, oggi un passaggio molto importante che ci consente di finalizzare bene tutta l'attività di bonifica e risanamento ambientale grazie alle caratterizzazioni che abbiamo fatto.